Siracusa Emergenza, consegna farmaci, scoppia il caso. Siracusa la protezione civile osserva orari d'ufficio. E' destituita di fondamento la notizia pubblicata stamattina da un organo di informazione secondo la quale la consegna a domicilio dei farmaci da parte della protezione civile è a pagamento. I farmaci possono essere richiesti secondo la procedura concordata con Federpharma al 800-187-500 fino alle ore 18. La protezione civile esclude categoricamente che qualcuno possa avere riferito che si tratta di un servizio a pagamento. Contattato telefonicamente, il diretto interessato ha riferito ad aver chiamato il numero verde ieri dopo le 18, cioè quando il personale aveva già lasciato gli uffici. Abbiamo voluto pubblicare la nota del Comune appena suscitata per deontologia professionale riguardante l'articolo pubblicato su Libertà Sicilia dove evidenziamo le lacune dell'amministrazione, non quelle di Federpharma, riguardante il servizio della protezione civile che osserva solo a Siracusa orari d'ufficio fino alle ore 18, dimenticando il fatto che in tale circostanza di pandemia mondiale, come in tutte le città d'Italia, in questo momento storico di emergenza sanitaria, si dovrebbe, per non utilizzare un imperativo categorico, garantire il servizio alla collettività H24. Non riusciamo a comprendere la risposta dell'amministrazione. Forse il Comune di Siracusa pensa di operare nello Stato di Malta o in Libia. Ha dimenticato le identità siciliane e le regole comportamentali e le disposizioni del Paese? Non riusciamo a comprendere la risposta in riferimento al loro comunicato stampa, dove è stato riportato integralmente, omettendo presuntivamente gli orari al pubblico. Riteniamo necessario e doveroso ricordare che l'attività di volontariato non presuppone vincoli di orari, specialmente in situazioni critiche di emergenza, come ampiamente dimostrato nelle altre regioni d'Italia. Se tale corrente di pensiero non è attuabile, si faccia posto a coloro che della forma di volontariato ne fanno motivo di aiuto, senza rendicontare orari e mettendoci il cuore. Non riusciamo ancora a comprendere la risposta al nostro autorevole mezzo di informazione che ha fatto fin dalla sua fondazione il credo a servizio della collettività, la sentinella della libertà, la voce dei cittadini, pagando il prezzo di essere in viso dalla pubblica amministrazione e non solo. Non riusciamo altresì a comprendere la risposta del Comune resa oltretutto nebulosa in quanto non attestabile, né facilmente imputabile a un atto indicato dall'assessore o dalla volontà del collega, imputando forse volutamente la sensibilità di andare contro un'attestata giornalistica per asservire il datore di lavoro. Il caso vuole che il Comune debba, in caso di rettifica, esplicitare quest'ultima con una nota formale alla stregua dei consueti comunicati stampa emessi semplicemente esplicitando un'arrata corrige e comunicando in tal modo gli orari osservanti dalla protezione civile omessi nel comunicato stampa, inoltre ai mezzi di informazione locale con riferimento alla scorso 19 marzo. Una confusione che l'ufficio stampa del Comune deve essere consapevole di aver creato, forse involontariamente, forse volutamente, ma che poteva essere risolta diversamente, evitando polemiche che in questo momento di particolare emergenza risultano sterili.